Ciao, io sono Samuel Diorgi e sono un essere umano prima di tutto Oggi parliamo di qualcosa che mi interessa molto Che è quello di raccontarci Quello di uscire fuori allo scoperto, del passare all'azione Tante volte questo è stato bloccato da quello che noi abbiamo subito Sin da piccoli, attraverso il giudizio altrui Quindi se siamo stati molto giudicati per come siamo Tendiamo molte volte a non esporci e non dire quello che pensiamo Questo perché il giudizio è qualcosa che limita fortemente Quella che è la libertà di espressione di ciascuna persona E in un mondo come il nostro, cioè nella nostra cultura E' fatta e ricca di giudizi Siamo nati giudicati, cresciamo giudicati Ma forse poche persone hanno la fortuna di crescere in una cultura senza giudizio Quindi ci stanno, ma è poca Questa possibilità, questa probabilità che noi ricadiamo in questo Tutto il resto dell'umanità, credo che sia Soprattutto questa nostra parlo Sia stata vittima del giudizio altrui Quindi è importante parlarne E' importante parlarne perché questo ha creato dei disastri Sulla tua stima personale Sull'intenzione, sulla volontà personale E su anche l'intenzione personale Come tutti noi sappiamo Abbiamo oggi infinite possibilità Di realizzarci a livello professionale Ma non tutti siamo propensi a farlo Perché appunto abbiamo dei limiti Che ci siamo imposti O ci portiamo addosso O ci sono stati trasmessi Ma non siamo qui per giustificarci O per dire non posso farci nulla Siamo qui per un po' analizzare quello che è la situazione E capire quello che nelle nostre corde O nelle nostre possibilità si può cambiare E quello che possiamo cambiare secondo me è già tantissimo Rendersi conto che noi abbiamo il potere di modificare La nostra già percezione personale Delle cose E' già tantissimo Perché la percezione personale che abbiamo Dei nostri limiti Delle nostre credenze È qualcosa che è un costrutto mentale Emotivo Che si può modificare Questo richiede tanto lavoro su di sé Ma non lavoro fatica Lavoro nel senso di sacrificio Lavoro nell'ottica Che bisogna dirlo forse in un altro termine Più processo Più esplorazione Che il lavoro Richiede tanta esplorazione personale Conoscenza di sé Sperimentazione Esperienza Sono queste le parole E conoscenza di sé Mettersi davanti allo specchio Che non è un lavoro Deve essere un gioco Deve essere qualcosa di divertente Che vogliamo fare Altrimenti diventa solo Qualcosa che facciamo Ma a breve termine Abbandoneremo subito Perché non ci troviamo In qualcosa di buono In qualcosa che ci fa Dannare E faticare E stressare Già Già lo siamo Quindi Che senso ha fare qualcosa Per trovare Per trovare Bene però facendo del male Cioè Noi vogliamo trovare Il modo per scardinare I limiti che abbiamo E lo facciamo Per scardinare Soffrendo No Quindi non ci siamo Tra parentesi Ritornando al giudizio Quello che Secondo me Andrebbe oggi Come oggi Rivisto È Il nostro Modo Di vederci Io sono davanti Di uno smartphone Che parlo E questa cosa qui È una delle tante cose Che Mi sono sempre Tenuto lontano Da fare Eppure sapevo Che sarebbe stata Questa Una delle cose Che prima o poi Mi toccava fare Se volevo fare Sto facendo il mio E per fare il mio Personale Progetto di vita Mi tocca Metterci la faccia E per questo Oggi lo faccio È arrivato il mio momento Amen Alleluia Qualcuno potrebbe dire Ma non è facile Metterci la faccia Davanti Perché siamo Continuamente Con quel sentito Del Non essere All'altezza Ma chi sei tu Ma chi ti crede di essere Ma cosa vuoi fare Mo tu C'è sempre Quella vocina Dentro la nostra testa Che deriva Dal giudizio personale Che abbiamo Di noi stessi Ereditato Dalla nostra Esperienza di vita E non ci dobbiamo Mai Mettere nei panni O comunque Non ci dobbiamo mai Mettere nella posizione Di incolpare qualcuno Per questo Che abbiamo oggi Gli altri hanno fatto Il massimo Che hanno potuto I genitori Gli amici I conoscenti I compagni Hanno fatto Sempre quello Che potevano fare E quindi Non è ora Il momento Di giudicare Come siamo E incolpare Altri Per come siamo oggi Accettiamo Che siamo stati In un contesto Di vita Abbastanza Confluttuale E difficile Per poter sviluppare L'autostima Bene E cosa possiamo fare Per poterlo Cambiare Questo approccio Con noi stessi E con gli altri Esplorando Conoscendoci Ricordandoci Le nostre I nostri valori Le nostre capacità Le nostre competenze Quali sono Quali sono Le nostre visioni di vita Le nostre missioni Perché siamo qui Perché siamo Da un certo punto di vista Unici Come è unico Il nostro La nostra impronta digitale La nostra impronta Sul dito Perché Perché siamo Effettivamente Creati Su Qualcosa Siamo Cresciuti Su qualcosa Che è L'esperienza Soggettiva Personale E nessuno Può Dirti Che la tua Esperienza Di vita È uguale Alla sua Nessuno Ognuno C'è la sua E il gioco Qual è oggi Il gioco È trovare Da So Non da soli Trovare In sé Quella Luce Che Quella Scintilla Quella Frizzante Quella Frizzante Anima Che c'è Dentro di noi Che vuole Emergere E ha paura Di farlo Quel talento Quella professione Quel Desiderio Che si vuole Realizzare Ma non si realizza È trovarlo Per poterlo Fare Di nuovo Uscire fuori Perché siamo Stati schiacciati Siamo stati Negli anni Abbattuti Umiliati Dalla Nostra Cultura E questo Non ci ha permesso Di fare il passo Successivo Che è quello Di Realizzare Un nostro Progetto Senza Risentimenti Senza Indecisioni Senza Paura Che cosa Non ci permette Di raggiungere Un punto B Da un punto A Dove ci troviamo A volte Non sono Le competenze Le conoscenze Tecniche Abbiamo tutto Ciò Abbiamo studiato Magari Migliardi Di corsi Tante ore Di formazione Abbiamo tantissima Esperienza E poi Per poter Passare Da un punto A A un punto B Facciamo Una grande Fatica E che ci manca Che cosa ci manca Per fare questo punto Questo salto O questo passo Meglio ancora Ci stiamo coi piedi per terra Che cosa ci serve Molte volte ci serve Proprio la sicurezza In sé Una chiarezza Una volontà Una padronanza Delle competenze Che abbiamo E soprattutto Quello che ci serve È uno scopo Cioè Ricordarci Che noi siamo qui Per portare Grazie Al nostro Alla nostra vita Una soluzione A dei problemi Che altri hanno E che altri Non possono Offrire Risolvere Come dice Una Grande amica E formatrice In questo mondo Esistono solo competenze Quindi siamo qui Ognuno di noi A portare La propria competenza Nella propria professione A servizio della vita Che la richiede Ora La domanda è questa La tua competenza Qual è? Scrivimi pure E facciamoci Due chiacchiere Se ti va Ciao